praticamente ci danno modo di fare una sorta di minaggio in cui noi investiamo una cifra che diciamo non è molto alta delle cifre bassissime e poi guadagniamo delle percentuali in base alla cifra che viene investito ovviamente un video dimostrativo e vi faccio vedere anche il mio investimento e se investite raga di così investite sempre consapevolmente e ciò che potete permettere di perdere detto questo raga il sito di oggi eccolo qua si chiama rabbit.cc il sito si presenta in questo modo ovviamente vi dovete registrare inserite l'email password e anche la password per la transazione che è diversa dalla password di registrazione che deve essere di 6 cifre numerica inventata da voi vi trovate qui quindi il link ve lo lascio in descrizione inizierete con 11 usdt 11 data usdt che stablecoin sarebbero 11 dollari una volta che iniziate dovete semplicemente ricaricare e ovviamente abbiamo questi livelli qui che sono dei livelli vip chi di voi segue il mio canale conosce questi siti sono molto uguali tra loro allora allora lo stato attuale il vip 0 praticamente noi dobbiamo completare delle task delle task tipo andare in un social task che durano tipo 5 secondi raga dopo vi faccio vedere e ovviamente il vip 0 ci da 0.20 centesimi di dollaro al giorno mentre il vip 1 è questo qui praticamente eccolo qui scusatemi raga vip 1 ci da praticamente con una ricarica minima di 20 usdt ci da praticamente due tasche al giorno per un totale di un dollaro e tanta al giorno e al mese sono 54 usdt quindi raga un bell'investimento con 20 usdt poi c'è il vip 3 ovviamente durano sempre due task da fare e però più andiamo ad investire più è alto il prezzo delle task che ci pagano quindi 9 usdt al giorno questo qui 160 usdt per un totale di 29 usdt al giorno e su via raga qui ci sono tutti i livelli vip ovviamente io vado ad investire nell'uno per investire raga ovviamente con 11 dollari basta andare prima a ricaricare qui c'è ovviamente l'area in cui se invitiamo le persone vedete abbiamo anche delle oltre al 10% di ciò che guadagnano i nostri ref abbiamo anche dei bonus ovviamente per esempio vedete livello 1 20 usdt ovviamente anche sulle ricariche più si investe più ci danno dei bonus tipo 9 usdt insomma per 120 usdt di ricarica però questi sono prezzi insomma per me un po' troppo alti che vi consiglio allora bisogna andare prima in research voi andate a ricaricare mettete usdt mettete l'ammontare che con 11 dollari ovviamente dovrà essere tipo 9 rete trc 20 fate research now e vi darà questo indirizzo da copiare che poi lo andate ad incollare sia in binance coinbase dovunque volete dove avete insomma questi 9 dollari per arrivare a 20 dollari quindi comprare il livello 1 dopo due minuti neanche raga ve li trovate in la sezione mai qui nel vostro balance e andiamo negli account vip e io vi faccio vedere vi mi compro il livello 1 che sono due tasche sono un dollaro e 80 al giorno faccio join now faccio confirm e vedete ho comprato il livello 1 adesso che cosa devo fare vado in home una volta che l'ho comprato e devo risolvere solo due task ogni 24 ore vado a premere sul mio livello attuale e vedete apro il link neanche un secondo faccio submit e ho guadagnato 0.90 apro quest'altro link vedete ci indirizza in delle pagine twitter facebook non dobbiamo neanche starci sopra raga praticamente si apre soltanto facciamo submit e vedete adesso ho finito le task praticamente devo ritornare fra 24 ore e me ne ricompariranno altre due rifacendo lo stesso processo quindi andare nella home principale andare a cliccare sul mio livello che in questo caso aspettate raga scendo è questo qui ci clicco sopra e vedete qua mi uscirà la task quindi fra 24 ore adesso vedete io nel mio balance praticamente ho 21 dollari e 80 ho guadagnato un dollare e 80 adesso vediamo il processo di prelievo withdraw andate in withdraw dobbiamo ovviamente settare il metodo di pagamento quindi facciamo confirm dovete mettere il tipo di network che deve essere solo trc20 quindi confermiamo e l'address l'address ovviamente raga sarebbe la stringa di portafoglio che non vi faccio vedere per motivi di privacy comunque si deve copiare e incollare la stringa tether usdt trc20 incollarla e fare add now dopo aver fatto questo raga vi dico solo anticipatamente prima di mettere insomma la task aspettate lo stop un attimo e poi vi faccio vedere ecco qui che vi uscirà raga scusatemi perché praticamente per motivi di privacy non potevo far vedere la stringa comunque vedete è stato accreditato è stata settata la vostra stringa adesso vedete io ho un dollare 80 già il vostro profitto praticamente già lo potete ritirare quindi dopo un giorno quei 20 dollari il profitto iniziale con tutta la cifra che è stata guadagnata la potete ritirare sia un 80 sia la vostra cifra che è stata guadagnata quindi raga questo è tutto il sito ovviamente abbiamo il piano referral che ve l'ho fatto vedere dove guadagniamo ovviamente su tre livelli diversi e ci danno anche dei bonus vedete livello 1 livello 2 livello 3 10 per cento 5 per cento e 2 per cento e su questo raga per limitare le persone se non volete investire usate il mio gruppo facebook che si chiama cash out soldi online ve lo lascio sotto in descrizione raga dove trovate 6.000 membri più di 6.000 adesso e potete pubblicare tutto quello che volete per farvi qualche referral detto questo raga se non avete capito qualcosa c'è anche in descrizione il contatto telegram dell'assistenza per contattarla quindi sito molto serio e pagante attualmente o contattate me sotto nei commenti io vi invito a lasciare anche un like al video per supportare il mio canale detto questo ragazzi vi auguro a tutto un buon guadagno dal vostro Antonio Cash Out Soldi Online lo lascio sotto in descrizione raga dove trovate 6.000 membri più di 6.000 adesso e potete pubblicare tutto quello che volete per farvi qualche referral detto questo ragazzi se non avete capito qualcosa c'è anche in descrizione il contatto telegram dell'assistenza per contattarla quindi sito molto serio e pagante attualmente o contattate me sotto nei commenti io vi invito a